Passiamo all'argomento numero 7, di nuovo contenzione o un certo ricordo custodi e mantenimento ed il ricordo dei cari vantaggi verso il canale di Ponsano e il segretario prima vi ha spiegato bene come stanno le cose per cui questo argomento va in teatro di giunta, per cui se non ci sono se non siamo lì vi chiedo di votare chi approva, chi si astiene, chi vota contro, per me il consiglio è risultato da niente, grazie Sì, grazie, pertanto 10 a favore e 10 a favore, 10 a favore, no Scusate, ero qua, se volete mettermi a favore 10 a favore, 10 a favore, 10 a favore, non abbiamo fatto tempo a chiedere, abbiamo detto su un articolo che c'era un incontro giorno 15 dicembre presso il canile di Ponsano, proprio che 11 amministrazioni tra cui Ponsano doveva partecipare, quindi in costanza indicata, noi abbiamo delegato il segretario e tanto doveva anche i ciali feriti e quindi lui è la situazione della pratica che è un maliceo Sì, allora, lui mi avevano presenti le associazioni della tutela dell'animale, c'è l'emba e non ci sono le amministrazioni della conventione, alcune cose che si spiegano come riguardanti i cani perché uno fa la prima riconscienza che sono una parte dei 5-5 genitori e poi metterla con le zone varanone che è integrata in cui si è successo per tutte le zone di Ponzano, cioè se ne mette a vista è supera la zona di Ponzano. Per curiosità, ma quanti cani gestisce questo canile di Ponzano, numericamente? Allora, ovviamente ci sono circa 270 cani, adesso 70 perché c'erano prima la gestione da maggior ora, adesso sono stati adottati, prima erano ottenuti per motivi collegati a mantenimento, comunque adesso si spera di svuotare sempre di più di canile, perché tra l'altro ci voleva anche evidenziare, per farci anche forme pubblicitarie, che in esistere i comuni che partecipano appunto alla convenzione, che non è, e c'è la possibilità di lottare i cani, di mettere in fotografia anche i cani in sito, in modo da agevolare la qualificazione. se avete questa informazione è un canile di locale, mantenendo gli stessi parametri. Il locale ha un costo superiore rispetto a quello a casa, quindi il costo è superiore rispetto a quello attuale. A presto!